Ciao! Allora, con un po' di ritardo e in un location un attimo differente, vi faccio vedere il video con gli omaggi e le cose che ho comprato al Cosmoprof. Lo so che sono un po' a ritardo, ma ho iniziato un nuovo lavoro, sono un pochino incasinata e quindi sto cercando di conciliare tutto quanto. Infatti questo video lo sto facendo all'ora di pranzo. Iniziamo subito. Allora, questa è la bustina con bene o male tutte le cosine che... C'è un capetto. Con tutte le cose che ho ricevuto. Vediamo un po'. Qui abbiamo un cane che mi sta guardando e chiedendosi ma che stai a fare? Allora, iniziamo pescando random. Dalla... Allora, questo va aperto. Da GV Cosmetics davano dei campioncini di praticamente shampoo, doccia shampoo e crema corpo. Vediamo se riesco ad aprirlo. Più c'è un altro cane lì che dorme. Insomma, c'ho uno zoo in questa camera. Sono a casa dei miei. Allora, c'è il doccia shampoo che è questo qui. Questo così. E poi la crema corpo che è questa qui, appunto della GV Cosmetics, dovrebbe essere GW Cosmetics. E questa è made in Austria, quindi è una linea austriaca. E vedremo com'è, com'è. Questa era la bustina in cui erano i prodotti. Togliamo il sorriso del telefono. Poi... Della Rian Live, è una ditta che produce apparecchiature per centri estetici, però hanno anche questa linea cosmetica. Mi hanno dato il bottle lifting serum, quindi il siero per il viso. E la confezione è questa e si apre un po' a fatica, così. È dorata all'interno e c'è appunto il siero. Non lo apro perché così almeno lo posso utilizzare più avanti. Meno a mano o a mano che finisco i prodotti che ho già. E questo è made in Italy, quindi è una buona cosa. Vi farò poi sapere come ci sono trovata. Poi, un'altra ditta che produce apparecchiature per centri estetici dove sono stata ospite e ha anche una sua linea di make up. Questa è la... Allora, vediamo come si chiama, che non me lo ricordo. Allora, il nome della casa madre, diciamo, non me lo ricordo. La linea di make up si chiama Isol Special Beauty e è questa qui. E questo è una BB cream con cellule staminali all'interno. Vi leggo che c'è scritto. Allora, BB Perfect Cream con cellule staminali vegetali e liposomi di acido ialuronico. Contiene inoltre burro di karité che procura una sensazione di morbidezza estrema e rende la pelle esitosa, come la porcellana. Un trattamento di bellezza quotidiana che unisce la praticità di utilizzo di un cosmetico, che dona un effetto di compattezza e di uniformità alla pelle, all'azione funzionale anti-age dei principi attivi contenuti. Una virgola, no, eh? E quindi questa è una BB cream. Vedremo poi come... come mi ci trovo. Il primo ingrediente è l'acqua, il secondo la grise gliceril stearate, S.E. Coco Capri Latte, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il burro di karité, però potrei sbagliarmi, eh? E vedremo appunto come mi ci trovo. Comunque la confezione è questa qui. Vedremo. Adesso soprattutto quel che arriva l'estate è un... la testerò tranquillamente. Poi, da Peggy Sage ho comprato il... un... come si chiama? un semipermanente che è questo qui. Il colore è questo. Non si vedrà una ceppa. Proprio. Bene. Vi faccio vedere il colore. Se ci riesco. No, non si vede. Dunque vi faccio vedere nel... è questo qui, non so se si riuscite a... travederlo dalla boccettina. Comunque, è uno dei miei classici colori, questo borgogna scuro, amarena quasi. E' uno dei miei classici colori. Poi, mi hanno regalato da Peggy Sage, era in omaggio, eh... una limetta. questa. Questa. Questa qui. E' da 180 a 180. Sono passata poi da Fabi. E uno me ne manca. e mi hanno omaggiato con uno smalto. Questo è della linea nuova collezione. Questo è il Tent de Neige e il Mary Me Robbie. Sono questi due. Sono appunto della nuova collezione. E in più ho anche una limetta. Questa qui. E questa è la... 200... 240 come grana. Poi andiamo avanti. Sempre da Peggy Sage. Ho comprato una crema a mani. Questa è agli agrumi e al tè verde. Perché sono appunto le profumazioni che io preferisco. E vabbè, ancora chiusa perché non l'ho ancora aperta. Però ho sentito il tester, mi piaceva molto. Nel fadiglione asiatico. Sono andata perché volevo vedere appunto qualche maschera, qualche cosa. Io sono andata di venerdì perché avevo appuntamento da Clarissa Nails. Quindi sono andata di venerdì. Quindi non molti ancora vendevano. Però sono andata alla Domont. Che è una delle linee di... Che praticamente produce prodotti personalizzati quasi. Allora, Domont è un brand di skin care. Urban skin care. Per le donne che sognano di avere... Sto traducendo dall'inglese. Di avere la giovinezza, la bellezza... Di avere giovinezza, pelle bella... Pelle bella... Pelle bella attraverso, diciamo, la vita quotidiana. C'è lo store online che è domontline.com E gli store online sono... In Corea. Quindi è proprio coreana. E c'è appunto la confezione che avevo avuto come omaggio Con tre sample delle loro creme. E c'è praticamente la crema difesa quotidiana praticamente. Poi quella per luminosità, giovinezza. E poi il gel purificante. Quindi per questi li proverò. Questi sono carini anche come... Quando uno viaggia da portare via insieme, con sé. E questi sono il marchio. Vedremo appunto come va. Io non so perché ma sono... Il bianco è vero, è azzurro, è blu. Diciamo un attimo. Boh, vediamo. Vedremo. Poi, al ritorno, sono passata da Sephora. E ho preso un paio di maschere. Dov'è? Mi manca una. Una l'ho già usata. Quindi ho preso quella all'avocado, questa qui. E quella al tè verde green tea. E poi ho preso questa qua. Questo gel micellare struccante. Allo yuzu, che penso che sia tipo un agrume. E ha un odore di agrume spettacolare. Cioè io amo gli agrumi, quindi non potevo non prenderla. Comunque è questo qui. Infine, un altro dei sample che mi sono stati dati, è della Sofie, che è appunto una marca, dovrebbe essere francese se non sbaglio, no, italiana. È italiana, sì. E praticamente è questa salvietta con l'acqua micellare. Quindi questa qui. Questa qui. E poi questa salvietta struccante con le proteine del latte. Questo qui. E sono molto comode. E praticamente ha la formulazione dermatologicamente testata presso il centro di cosmetologia dell'Università di Ferrara. E è prodotta a Firenze. Ficò. Ficò. E basta. Basta così. Non ho nient'altro. Uno degli smalti della Fabi che praticamente mi è arrivato lo metterò in palio per ogni giveaway. Perché è un colore che comunque ne ho già di diversi tipi. Quindi utilizzarlo mi sembrava uno spreco. Quindi preferisco comunque regalarlo a voi. E poi ci sono altri prodotti che metterò in palio, credo. Anzi stanno già in palio. A breve farò il video. E basta. Vi faccio vedere l'ambulamento che dorme. Romolina. Romolina mia mamma mio. Vieni qua. Amore di mamma. Vieni qua. Salame mio salametto. Eccolo il mio salametto. Guarda lui il salametto. Amore. Saluta. Ciao. Bene. No dai. Amore. Ma va bene. Da me è Romoletto che adesso dorme così. Un saluto e al prossimo video. Ciao. E' un giocatore buono. Che c'è? Dai. Oh si 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 ti metto a dormire. Si. Oh mio Dio. Dai. Dai. Vuoi il posticino sul filetto? Vai. Vai. E per giustizia. Anche attore mio. Atore mio. Atore mio. Atore mio. Atore mio. Atore mio. grazie